Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Jasmine Carrisi farà parte del cast di Beautiful. I personaggi si trovano in Italia. Immersi nell'atmosfera romantica e nel fascino del paese. Mentre si intrecciano nuove storie d'amore e rivalità familiari. Di certo ci avete fatto compagnia alla notizia sgranando gli occhi. Cosa ci fa Jasmine Carrisi nel cast di Beautiful? Semplice. Recita. Da cantante ad attrice in un batter d'occhio. La fortuna le ha bussato alle porte e l'ha voluta sul set di una delle fiction più longeve targate Hollywood. La bellissima ventenne avrà un ruolo centrale anche se per poche puntate. Tra non molto avranno inizio i primi Chuck e qualche spoiler ha iniziato a fuoriuscire. Sembra che la giovanissima figlia di Albano sia stata scritturata per un ruolo che avrà molto a che fare con la meravigliosa Brooke. Katrin Kelly Lang, ama moltissimo il nostro paese, e si è dichiarata entusiasta di ritornare per girare alcuni episodi della trama trentennale. La serie è iniziata nel 1987 e si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda di lusso a Los Angeles, chiamata Forrester Creations. La trama è caratterizzata da triangoli amorosi, intrighi, rivalità familiari e drammi personali. Beautiful si svolge principalmente nell'industria della moda, con molte storie incentrate sulle lotte di potere e sulle relazioni amorose all'interno dell'azienda. La sop non è nuova allo sbarco nella penisola del tricolore. L'Italia nel corso degli anni è stata spesso scelta come location per storie romantiche ed avventure dei personaggi. Alcune delle città italiane includono Roma, Venezia, Firenze e Portofino. Le riprese hanno offerto spettacolari sfondi e scenari per le trame della sopopera. È interessante notare che le scene girate nei luoghi italiani spesso coinvolgono matrimoni o fughe romantiche dei personaggi principali, creando momenti memorabili per gli spettatori. Sarà così anche stavolta? Non sappiamo molto visto che la telenovelas è avanti di un anno rispetto alla programmazione sull'emittente televisiva nostrana. Sappiamo che la figlia di Albano e Loredana Lecciso avrà a che fare con un affare disperato di Brooke. Che coincidenza però? Qualche mese fa Ron Moss. Il vecchio Ridge di Beautiful è stato ospite nelle tenute di Cellino San Marco come sottolineato da qualche scatto. Che ci avrà messo lo zampino? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.